e al libro paga del Modena. Per la pallavola è finita subito l'avventura, la Final 8 di Volleyball Nation League per l'Italia. Gli azzurri di Fefe De Giorgi sono stati sconfitti nei quarti di finale al tie-break dalla Francia di Andrea Gianni. Partita tosta con tante seconde linee in campo per gli azzurri. Buona la prestazione di Giovanni Sanguinetti che spera ancora nella convocazione per le Olimpiadi. Sentiamolo. Siamo stati bravi a giocarci le nostre carte, secondo me li abbiamo un po' sorpresi, siamo stati bravi a tenere un alto livello durante la partita. Poi alla fine, come sempre nella pallavolo, sono poi quei due o tre palloni che fanno la differenza e sono stati bravi loro a giocarli meglio. Quindi vincono meritatamente, però noi un po' di rammarico ce l'abbiamo perché è un peccato, eravamo davvero vicini, però comunque siamo consapevoli di aver fatto la nostra partita. È un'Italia che può dire di aver dimostrato di essere una grande squadra, seppur con diverse variazioni nel corso della Volleyball Nation League. Sicuramente in Slovenia siamo andati un po' sotto tono in un paio di partite, però comunque con una squadra abbastanza poco rodata in campo così, poteva anche starci dei ragazzi giovani. Comunque siccome siamo stati bravi a prendere ritmo e a giocare la partita migliore. Adesso torniamo a Cavalese per cercare di preparare le Olimpiadi al meglio possibile e speriamo che vada tutto bene, noi lavoreremo e sicuro quello aiuterà e poi vedremo a Parigi.